Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Non perdete tempo, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notizie. Eleonora Giorgi ha recentemente rotto il silenzio dopo il matrimonio del figlio Paolo Ciavarro con Clizia in Corvaia, sorprendendo i fan con le sue parole. Nonostante la felicità che circonda la sua famiglia in questo momento, l'attrice ha espresso un tono malinconico che ha toccato il cuore di molti. In un'intervista, Eleonora ha dichiarato di voler continuare a restare accanto ai suoi figli negli anni, ammettendo di sentirsi un po' in bilico a causa di una situazione complicata e della preoccupazione per il suo stato di salute, dopo un'operazione per rimuovere un tumore. Il matrimonio del figlio, celebrato il 12 luglio, è stato un momento di gioia in cui Eleonora ha accompagnato Paolo all'altare. A distanza di qualche giorno dalla cerimonia, ha condiviso le emozioni vissute e il suo pensiero sulla nuora Clizia, descrivendola come dotata di un'ingenuità intelligente che riconosce anche in se stessa. Ha dichiarato di essere felice per il figlio, senza mai intromettersi, poiché Paolo si è innamorato follemente di Clizia e lei non poteva che esserne felice. E voi, cosa ne pensate delle parole di Eleonora? Fatecelo sapere nei commenti.